Un incontro all'esito positivo e questo è il risultato emerso nel pomeriggio di ieri dopo la riunione che si svolta presso la Regione Molise tra i rappresentanti dell'Associazione Winterline di Venafro e i vertici regionali dello IACP. Lo sfratto del Museo Militare Venafrano, almeno per ora, si allontana. Infatti, il tavolo di confronto ha deciso che il museo deve essere salvato e pertanto, come riferito anche da Luciano Bucci, rappresentante e presidente della Winterline, si è deciso di congelare lo sfratto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere redatto anche un documento ufficiale che ponga fine o quasi alla vicenda. Una soluzione burocratica, spiega Luciano Bucci, che almeno per ora ci permetterà di restare nella nostra sede e di andare avanti con tutte le nostre iniziative culturali. Naturalmente, prosegue il presidente dell'Associazione Winterline, i problemi da affrontare sono ancora molti, soprattutto quelli economici. I componenti dell'Associazione pensano che dietro gli interessi ai locali, dove è attualmente ospitato il Museo Militare, ci potrebbe essere l'interesse da parte di terzi, perfino economici. Un tavolo di confronto, convocato all'assessore regionale Pier Paolo Nagni, che ha fatto da mediatore con l'OIACP, come riferito a Luciano Bucci, anche sul noto social network Facebook. La campagna di sensibilizzazione alla sopravvivenza del Museo Winterline degli ultimi giorni, soprattutto la petizione online, ha avuto i suoi frutti e per ora il museo sarebbe salvo. Resterà a capire quale tipo di accordo l'Associazione riuscirà a trovare con l'OIACP per rimanere in maniera permanente a Palazzo dei Utris, nel pieno del centro storico di Venafro. Noi non abbassiamo la guardia, conclude Luciano Bucci, e lotteremo affinché i nostri diritti vengano sempre riconosciuti. Il lavoro di anni non sarà vanificato senza motivo.